Sequestrati beni per 800.000 euro di un imprenditore ragusano per bancarotte e fatture false. Al centro delle indagini dei finanzieri della compagna di Vittoria è il fallimento di una società ipparina. Nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura Iblea sono indagate tre persone che sono state rinviate a giudizio per emissione, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, bancarotta fraudolente e autoriciclaggio. Gli accertamenti, secondo l'accusa, avrebbero permesso di far emergere la sottrazione al pagamento di debiti erariali per oltre 1,5 milioni di euro tramite il trasferimento fraudolento degli asset societari ad una nuova impresa operante nello stesso settore, formalmente intestata alla moglie del rappresentante legale della società fallita. L'azienda avrebbe fatto assumere fittiziamente i propri dipendenti a una società terza, risultata essere una cartiera, ovvero un'azienda priva di mezzi e strutture, intestata a un prestanome creata con l'unico scopo di generare illeciti vantaggi fiscali, di fatto riconducibile al medesimo imprenditore di Vittoria che avrebbe messo fatture inesistenti per la somministrazione di mano d'opera. Secondo la finanza, inoltre sarebbero stati reinvestiti circa 300 mila euro di provviste illecitamente accumulate tramite un sistema di giroconti in un'ulteriore impresa operante nel settore della ristorazione, anche essa riconducibile alla moglie dell'imprenditore ragusano. Il GIP di Ragusa ha disposto il sequestro del complesso aziendale e di somme di denaro e beni e il rinvio a giudizio degli indagati.